E' davvero sconfortante il degrado in cui versa l'intero quartiere del Tirone, eppure chiedete interventi immediati, il primo potrebbe riguardare queste strutture in lamiera. L'assessore De Cola ci ha informato e ci ha chiesto il tempo affinché i vigili potessero accertare la natura giuridica di questo spazio, che a nostro avviso è chiaramente pubblico, ma ovviamente la burocrazia ha i suoi tempi. Ci auguriamo che a brevissimo, a strettissimo giro, si possa finalmente dirimere questa controversia e poter intervenire con le ruspe per restituire una piccola pozione di una struttura architettonica storica che andrebbe sicuramente valorizzata, che è il muraglione spagnolo qui alle nostre spalle. Ma questo Tirone ha bisogno di una bonifica totale e purtroppo una parte di quest'area non è pubblica ma è privata del suo ordine. È un esempio significativo, è sicuramente quello rappresentato dall'ex convento che vedete alle mie spalle, quello che fa riferimento al terzo ordine francescano regolare, una struttura letteralmente dimenticata e non a caso occupata abusivamente da una trentina di persone, anche bambini. Una struttura che peraltro mostra inevitabilmente il peso degli anni, a rischio cedimento eppure ci vivono all'interno numerosi nuclei familiari. Anche lì avrebbero dovuto intervenire i proprietari dell'area per poter ripristinare le condizioni sufficienti di igienico-sanitari. Il Comune non può far altro che emettere un'ordinanza come noi abbiamo richiesto, come la circoscrizione ha richiesto da tempo e a questa dovrebbero rispondere i legittimi proprietari. Infine le condizioni di gravissimo pericolo in cui vivono circa 10 famiglie nella sommità della Scalina da Sergi. Là invece c'è un fabbricato anch'esso storico che è pericolante, per cui un anno e mezzo fa queste famiglie hanno ricevuto un'ordinanza di sgombero. Ecco, noi chiediamo da allora di emettere un'ordinanza di demolizione e messa in sicurezza, proprio perché 10 famiglie non possono rischiare di rimanere in mezzo a una strada, o addirittura, ancora peggio, ovviamente facendo i debiti scongiuri, rischiare che possa crollare un muro addosso alle loro case. Avete sollecitato più volte i privati, i proprietari di questa struttura, chiedete insomma un intervento. L'impressione è che vada demolita, perché ormai le grebbe sono evidenti. Sì, viene demolita perché è pericolante. A noi ci interessa togliere il pericolo e noi possiamo stare qua. Noi non chiedevamo fastidio a qualcuno, però il pericolo non ce lo devono togliere, perché ci sono dei bambini, ci sono dei vecchietti, non so come lo devono fare. Non hanno messo mai in sicurezza circa 8-9 anni e sempre combattiamo, combattiamo, combattiamo. Qui sopra noi facciamo tutto, togliamo l'erba, mettiamo le lampadine, facciamo i buchi per terra, non ci viene nessuno qua. Siamo in esanamento, però tutte le cose ce le vediamo noi. Il prego è che cadeva qualcosa, noi prendiamo il cemento e mettiamo il cemento a noi. Non c'è che veniva qualcuno, nessuno ha la sicurezza, diciamo, guarda queste persone non possono passare perché arrivano a terra. Non c'è nessuno. Fra le immagini simbolo del degrado del quartiere del Tirone, sicuramente la strada pubblica, via Antonino Bova, una piccola traversa, alla mia sinistra il muraglione Spagnolo, una delle tante strutture che andrebbero valorizzate, rivolificate, sarebbe uno straordinario scorcio della Messina che non c'è più, che potrebbe così essere riscoperto. Eppure questa traversa, ripetiamo, pubblica, si trova in condizioni di assoluto abbandono e peraltro sopra il muraglione sono presenti delle superfetazioni, delle strutture, con ogni probabilità, ma non dobbiamo certo certificarlo noi, di natura abusiva. Quando vige l'anarchia c'è inevitabilmente chi ne approfitta e però ha un passo dal centro storico, uno dei tanti delitti di una Messina che dimentica il suo passato, anzi lo calpesta.